Buongiorno, mi chiamo Antonello Carta, lavoro ad Agri Sardegna, che è l'Agenzia regionale per la ricerca e trasferimento tecnologico in agricoltura. Nel progetto Euroship svolge il ruolo di facilitatore della rete di lavoro nazionale. Euroship è una rete di lavoro internazionale che ha come obiettivo quello di risolvere le problematiche relative alla gestione dell'alimentazione e della sanità negli allevamenti uvini. Euroship intende coinvolgere in uno scambio di conoscenze interattivo tutti i componenti delle filiere uvine in Europa e nel resto del mondo, in particolare ricercatori, allevatori, tecnici, consulenti, veterinari e anche giornalisti specializzati. La rete di lavoro coinvolge otto nazioni tra le più grandi produttrici di latte e carne uvina. Come partecipanti abbiamo Italia, Francia, Spagna, Irlanda, Grecia e Ungheria in Europa e Gran Bretagna e Turchia fuori dall'Europa. Abbiamo attivato e stiamo attivando in questo momento delle interlocuzioni e degli scambi di conoscenze tra gli allevatori dei vari paesi. Gli scambi riguardano le migliori pratiche allevatoriali che sono in grado di contribuire a una migliore gestione delle problematiche sanitarie e alimentari all'interno di un allevamento uvino. L'obiettivo evidentemente è quello che attraverso l'applicazione di queste migliori in pratica che si possa migliorare la redditività aziendale. Insomma, se applichiamo correttamente le soluzioni di Euruship risparmieremo tempo e danaro alle aziende. Euruship è iniziato a gennaio del 2020 e terminerà a giugno del 2023. È aperto a tutte le componenti delle filiere ovine europee e ad anche altre nazioni che volessero riuscire a noi. Chiunque sia interessato a partecipare al network o a seguirne i contenuti può collegare al sito web o seguire i nostri aggiornamenti sui social media.